Questa è la prima trasmissione della settimana, è la prima trasmissione della settimana. Guardate, quando io parlo del signor Fiore, la disciplina che c'è via Gustavo Rossella, voi non potete mai sapere, io non faccio pubblicità, ci conosciamo così, ma quello che succede in questa disciplina non è normale per niente, non è normale per niente. Eleonora, sono in diretta a TV, sono, accendi la televisione e mi vedi, dai, accendi la televisione e mi vedi. Ciao vita mia, ciao, ciao. Questa è una carissima amica mia di Posto in Pesos. Allora, guardate quante persone sono andate e la guardate. Questo è un tabulato, guardate, ieri, l'ha uscito ieri, guardate.